Stavano rubando mandorle da un podere con circa 2000 alberi ubicato in località Bella Griffi, a Ruvo di Puglia, ma sono stati colti sul fatto ed arrestati dai carabinieri. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 47 e 32 anni, beccati in flagranza di reato con circa quattro quintali di mandorle già raccolti e senza avere però nessuna autorizzazione da parte del proprietario del fondo. I militari di Ruvo, allertati dalle guardie campestri, sono immediatamente giunti sul posto ed hanno accertato che la refurtiva era già stata caricata in auto tra bagagliaio e parte posteriore della vettura. I carabinieri hanno appurato che i due uomini non avevano autorizzazione per la raccolta e sono stati trovati in possesso anche di bastoni e teloni utilizzati per percuotere gli alberi e raccogliere poi i frutti. Informata la procura della Repubblica di Trani, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Come disposto dall'autorità giudiziaria, la refurtiva invece è stata restituita la mente diritto. L'attività posta in essere dei militari in collaborazione con le guardie campestri e le aziende agricole punta a contrastare ogni forma di attività criminale perpetrata ai danni di imprenditori agricoli che si occupano di un settore strategico per l'economia locale e regionale.